Il punto è, non voglio essere prolista perché poi sapete se no parlo, parlo, parlo e mi dilungo troppo e spoilero troppo. La motivazione che io mi auguro che troverete dal libro nasce proprio dal fatto che comprendiate, perché voi siete stati anche parte del processo, quindi io parlo di tante cose e parlo veramente dell'evoluzione della mia vita. E' la maggior ragione che tanti di voi mi scrivono che in questo momento sono scoraggiati, io spero di darvi tanta grinta e tanta motivazione. Noi su Instagram cosa vediamo? Tutte queste vite perfette, stupende, patinate. In realtà ragazzi, la vita è tutt'altro, la vita è un casino, ok? Questa è la verità. E lo leggo anche dai direct che mi mandate voi, dalle storie vostre, eccetera. Quello che voglio farvi capire è che la mia storia è molto più simile alla vostra di quanto pensiate e il fatto che io ora sia qua a parlarvene è perché ho trovato la forza di affrontare anche tutto quello che sono stati i casini, le sfighe della mia vita e quindi tutti i problemi e gli errori che ho fatto e spero che possano stimolare voi a fare di meglio, a non fare i miei stessi errori, ma soprattutto ad aiutarvi a reagire, perché a me non ha regalato mai un cazzo a nessuno. Quindi per fare capito ragazzi, se avete qualcosa, un sogno per dire, fatelo, inseguitelo, mi raccomando.